Alla fine della corsa vogliamo fare un applauso a tutti e tre che hanno onorato anche quest'anno la tradizionale corsa del cavallo, ossia il palio di San Giorgio, grazie a questi ragazzi che continuiamo ad andare avanti, un grosso applauso e adesso passiamo alla premiazione con me c'è il giudice di gara, il signor Alessandro Gentile, la ragazza, la signora è l'organizzatrice sulla spiaggia e la signora? Buona Cessi Michela, direttantistica San Giorgio Martire Senti che bello? Hanno dato a loro il loro nome, il nostro Martire San Giorgio, il padrone di Vieste Grazie, adesso iniziamo dal terzo posto, diamo questo compito al giudice di gara Buonasera a tutti, allora i cavalli sono stati recuperati, grazie a Dio non è successo niente Un applauso agli organizzatori Alla signora Michela, nonché l'organizzatrice, anche la signora è la presidente dell'associazione ASD, come diceva lei, San Giorgio Allora partiamo con la premiazione, terzo classificato, nome del cavallo, Giffoni, Gino Troiano Il secondo classificato, il cavallo Liberi Scatti di Gigi Troiano, nonché il figlio del signor Gio Purtroppo, Gigi, Gigi, purtroppo, purtroppo per via di qualche inconveniente, non vi preoccupare L'importante è che non è successo niente E poi anche quello che c'era il giorno di ingresso, in modo come si è rivolto Ah sì sì, è capitato Purtroppo è capitato Scusate per questa piccola parentesi Allora, innanzitutto volevo ringraziare gli sponsor perché loro hanno dato la possibilità di offrire queste coppe a questi signori Di dove siete? Scusate Allora, il terzo posto è stato offerto dall'hotel Garden Ripa Un applauso Il secondo posto, la coppa del secondo posto, la terrazza sul mare, Onda Golosa Arriva anche lo champagne E per finire premiamo il primo posto, il nome del cavallo Full Show Con il ragazzo Leo Iannone Questa coppa è stata messa in premio dalla Farmacia del Porto Avete visto cosa c'è a questo ragazzo? Forse voi, molti di voi, o meno la mia età C'è il nonno, chi era il nonno? Strisciotto! Vedi? Il mitico Strisciotto Lui oggi ha nurato Strisciotto Va bene, ho vinto chi ha vinto Grazie Allora signori, io volevo cogliere questo momento Per fare un applauso a un ragazzo che purtroppo non c'è più E' venuto a mancare l'anno scorso Allora signora Presidente Un applauso Si erano raccomandati Si erano raccomandati dall'Associazione San Giorgio Questa vittoria la dedicavano a questo ragazzo Un applauso Infine sempre questa associazione San Giorgio Ha messo un altro premio per il primo classificato Ecco, è arrivato Ed è un trofeo Questo trofeo è offerto dall'Associazione San Giorgio Che è un'associazione che da pochi mesi è nata qui a Vieste E che si occupano di passeggiate, trekking È una scuola di evitazione Chiunque voglia iscriversi, associarsi a noi Noi siamo disponibili Mi raccomando Un applauso Volevo ringraziare Alessandro Lazzarone Allora, per dirvi grazie a tutti La festa continua Adesso facciamo la stilata Mi raccomando Stai arrivati Perché da viste che i cavalli sono proprio salvaggiti Stasera c'è festa in piazza Abbiamo l'Arteca E fino a Campania Non lo sapevamo Ci divertiremo Allora 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.